365 polente all'anno. Testimonianza di Margherita Lovera, detta Nota de Battistin de Drea, nata a Borgo San Dalmazzo, classe 1895, contadina e tessitrice. Sono una burgherina, ossia sono nativa di Borgo San Dalmazzo. Abitavamo in un ex convento di frati sulla via Perdemonte, nella Piana, a Tettideo. Quattordici in famiglia, nove maschi e cinque femmine, ma ne sono morti cinque da piccoli. Non si sa di quale malattia. In due o tre giorni morivano. Ero la più giovane dei viventi. Terra ne avevamo quattro giornate. Due giornate erano di mio padre e due erano la dote di mia madre. A nove anni ho preso ad andare da manuala a raccogliere le castagne. Sa quanto mi davano? Quattro soldi al giorno. Andavo da un vecchio, da cento de Barbano. Lo chiamavano Barbano perché aveva una lunga barba bianca. Era cieco e io avevo una paura. Barbano era venuto a cercarci. Battistin, mi mandassi un po' una figlia da serventa a cogliere le castagne, aveva detto a mio padre. E mio padre a lui. Ma io ve la mando. Mando questa. Allora Barbano, con il braccio teso, mi aveva cercata. Ma dov'è? Ma dov'è? Diceva. Io ero così piccola che non riusciva a trovarmi. Ero un palmo sotto il suo braccio teso. Andavo su per i boschi, sola, piena di paura. E pensavo sempre alle parole di Barbano. Cogli poi tutto. Anche i murac o grullu, ossia le castagne di scarto, belle e brutte. Ogni sera Barbano arrivava nel bosco a controllare. Aveva una capra per mano che lo guidava. Barbano mi diceva sempre. Ah, non le hai mica colte bene oggi. La capra fa ancora scricchiolare. Cioè, la capra trova ancora delle castagne e le fa scricchiolare sotto i denti. Ne goglievo mezzo sacco al giorno di castagne. Partivo al mattino scuro e tornavo alla sera scuro. A mezzogiorno mio padre mi portava una fetta di polenta, cotta a fuoco lento nel latte. E com'era buona! Man mano che la famiglia aumentava di numero, mio padre affittava altra terra. Prima aveva una vacca, poi due, poi tre. Le vacche che prendeva a credito magari già gravide. Così come nasceva il vitello, lo vendeva e mungevamo poi subito per avere un po' di latte da mangiare. I miei fratelli, ai sette anni, andavano da vacche. I loro soldi mio padre non li portava mica a casa. Come li prendeva, li portava subito dove li doveva. E mia madre ha fatto una vita. A mezzogiorno mangiavamo sempre la polenta. Se non si faceva la polenta non era pranzo. 365 polenti all'anno. Alla sera tagliatelle al latte o minestrone. La carne due volte l'anno, a Pasqua e Natale. Eravamo tutti grassi così. E mai male a un'unghia. Vestiti alla meno peggio. Siamo sempre stati ben puliti, ma rattoppati. A tredici anni sono andata da serventa a Cuneo, in un posto dove non mi davano da mangiare. Era la famiglia di un capitano. La padrona, una napoletana, era vara. Guadagnavo 18 lire al mese. Dopo 15 giorni mia madre è venuta a vedermi. Ero consumata. Mia madre mi guardava e mi aveva soltanto. Oh, in che stato? Oh, in che stato? In quella casa mi davano solo gli avanzi quando c'erano. Morivo di fame. Tornare a casa non volevo. Mi vergognavo. Era una vergogna rinunciare al posto, una vergogna di fronte ai vicini. Quando uno rinunciava al posto, la gente diceva, oh, ha portato le cipolle. Piuttosto di sentirmi dire questa cosa, sarei morta. A 15 anni ero poi già più slegata, più sveglia. Ho incominciato a comprare i funghi. Un buon mestiere. Guadagnavo bene. Ho avuto anche l'idea di farmi suora. Avevo visto mia madre che aveva attribolato tanto. Non volevo fare la sua fine. Se mi faccio suora, sarò tranquilla, mi dicevo. Quando andavo ancora a scuola, le suore mi cissavano sempre. Mi sono sposata nel 1926. Si è presentato Battista. Appena l'ho visto, mi è piaciuto. Era un destino. Ma Battista abitava in montagna, a San Maurizio. Così mio padre e mia madre piangevano. Mi dicevano, stesse in basso, ma sta così in alto. Farai una vita lassù. Battista mi diceva, io faccio tela e tu mi aiuti. Io non ti lascerò andare in campagna. Ho ancora la vesta da sposa, di seta nera, ben ricamata. La donna comprava la guardaroba e portava al fardel. Battista mi ha accompagnata dall'orefice e mi ha detto, prendi quello che vuoi. Allora io ho scelto, ma senza esagerare, ho scelto normale, pensando al domani, pensando che dovevamo avere l'interesse in comune. Una bella catena d'oro doppia, con l'orologio d'argento da taschino e quest'anello, che adesso è sottile perché si è consumato lavorando. Un bel matrimonio. Mi sono sposata a Borgo. Il landò era a tiro di due, seguito da quattro carrozze, tutto offerto da Battista. A Vignolo la bicchierata, poi a piedi fino a San Maurizio, con i parenti al seguito. Lassù il pranzo era già pronto. Pomodori e peperoni interi, acciughe al verde con uova dure e salame. Appresso il bollito e il pollo arrosto con patate. Infine frutta, formaggio, paste dolci, caffè. Mi hanno fatto uno scherzo durante il pranzo. Hanno messo un po' di braccia sotto la mia sedia, con sopra una manciata di camomilla. In casa avevamo due telai, uno nostro e l'altro di mio cognato. Li avevano studiati e fabbricati loro. Senza lodarli erano intelligenti. In famiglia si andava tanto d'accordo. Lavorando guadagnavamo bene. Era un buon mestiere. Si mangiava sopra. Buonanima del padre di Dalmasin, il padre di Dalmazzo Giraudo, era il nostro vicino di casa e ci diceva sempre noi d'inverno abbiamo qualche soldo risparmiato e lo spendiamo. Voi invece anche l'inverno mangiate e risparmiate. I nostri clienti erano i masuè della pianura. Ci ordinavano i fardel per le spose e anche la tela per la famiglia. I masuè ci fornivano le matasse di canapa e di cotone filate a mano dalle masuere. Noi compravamo solo il filo colorato per i disegni e per i ricami. Era un lavoro di fatica al lume della lucerna a petrolio. Disponevo i 20 fili di base, poi legavo i mille fili di testa in due ore. Lavoravo con le spole, infine giasavo con la papocia di meliga. Impastavo i fili, li uguagliavo e con le brusche li mettevo bene in piano. Chi faceva gran fatica era mio marito. Era lui che faceva funzionare il telaio con i pedali. Era lui che tirava la tela e ci voleva la forza. Bisognava essere pronti in gamba. Mio marito aveva imparato il mestiere da suo padre. Le pezze erano larghe 90 centimetri e lunghe 18 centimetri. Facevamo mezza pezza al giorno. Valeva 12 lire la pezza. Guadagnavamo 6 lire al giorno. Lavoravamo la canapa pura e la canapa e cotone. Le lenzuola di sola canapa erano più dure ma più sane. Il cotone è più molle, più umido. Il lavoro da tesora mi piaceva tanto. I mio marito ha mai dovuto andare a fare la campagna del grano e noi non siamo mai stati costretti a tenere i bachi da seta. Abbiamo il tessuto fino al 1960. Avevamo poi già la luce elettrica così a lavorare di notte non ci toglievamo più gli occhi. Nel 1960 avevamo ancora tanti clienti presso il nostro pensiero il nostro wissżeggarokus.com. Lavoravamo gli occhio imparato i due dic里 insieme. Nel nostro pensiero, aggiungiamo ancora i suoi caldo di Hospice. Cüpisci promises qui i destri diare le caldo di un ureondo di Džiaano. Ci parargi, vi樣anolung, tutti gli occhi, Grazie a tutti.